Prendo la tua roba, in realtà dopo che mi era giunto il video, mi ha chiamato l'idea di presentare all'interno di questo incontro, anche questo fascicolo di Micromega che è inaugurato, che si intitola banalmente Un esempio di Resistenza e che contiene un sacco di materiali interessanti. Grazie, tra l'altro dovesse cercare di avere una doccia, però non è arrivato il materiale che avevano studiato. Questo non è, ma non è arrivato ma anche una doccia che abitava l'ora. La doccia è arrivato che viene dopo le tre di subito. Dunque, quanto da voi volete che parli? Io sono come una fisarmonica, quindi da tre minuti a tre ore, scegliete voi. Facciamo 10 minuti, intervento una decennia di minuti, lasciare spazio. Un quarto d'ora. Allora, un professore dice cose interessanti. Appunto, come speriamo, quindi non porrei chimici. Anche io, sono d'accordo. E per cortesia, ci dia un po' di entusiasmo, perché siamo venuti qua da fuori di Bologna. Allora, il 25 aprile 1945, siamo qui a celebrare la riberazione. Il tema che vorrei porre, visto che mi date 15 minuti, cercherò di essere sintetico. No, 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 no. Diciamo qui. Assolutamente. Il tema che vorrei porre... E quello del significato della parola riberazione. Intanto cominciamo a dire, è sempre importante fare un po' di pulizia delle parole, pulizia delle parole, non pulizia. Interrogarci sulle parole, sul loro suono, sul loro significato, sul significante e sul significato. A cominciare dalla parola resistenza, che è una parola negativa, nel senso che si resiste a qualcosa. Una parola che poi nel corso del tempo ha acquisito il suo contenuto. Ma in realtà i partigiani si chiamavano tra loro ribelli. La parola resistenza fu usata dai denigratori. E poi mi hanno cercato, si è cercato nel corso del tempo, ha assunto un significato anche, un contenuto. In realtà quello che vorrei porre all'attenzione è il significato sostanziale della liberazione. Anche la parola liberazione, essendo una parola relazionale, implica un altro oggetto. Ci si libera da qualcuno o da qualcosa, evidentemente. Da che cosa? L'Italia si è liberata nella data canonica, diciamo, una data ovviamente, come sappiamo, emblemata, la liberazione di Milano. Anche se la liberazione, come sappiamo, ha proceduto, seguendo un po' la linea geografica da Napoli in avanti, dalle quattro giornate in Napoli, siamo nel settembre del 43 addirittura, risalendo lungo la peniglia. Da che cosa ci siamo liberati nel piegno 43-45? Come sappiamo, a partire da tutta una serie di studi che sono tutt'anni poi riassunti dell'opera L'Opus Magnum di Claudio Pavone, su cui voglio dire anche qualche parola critica da poco, 43-45 ha contenuto tre guerre. La guerra patriottica, cioè la guerra di liberazione nazionale dall'invasore tedesco, la guerra civile letteralmente a italiani e contro italiani e una guerra sociale, insomma una rotta di crescita. Ma questa, vuol dire, ripartizione, che è una buona cosa per dire forse un po' rigida, questa ripartizione in realtà si deve indurre a fare alcune regressioni all'interno della ripartizione. Intanto la guerra patriottica, la guerra di liberazione nazionale, per così dire, era una guerra che ci liberava e ci ha liberato, certamente, dal tedesco nasore. Ci ha liberato anche dai repubblichini, possiamo considerare un secondo esercito, un pseudo esercito, ma insomma era una forza che aveva la sua forza militare, specie per quanto riguarda l'azione interna repressiva degli antifascisti. anche quello era, in realtà, si può considerare, o era considerato una sorta di nemico invasore, per così dire. E, in qualche modo, questa guerra di liberazione, vuol dire, ci ha liberato dal nemico esterno, ma in qualche modo il nemico interno, oppure lo sconfitto, con la sconfitta della Repubblica di Sala, forse è rimasto. E' rimasto, e se pensiamo, faccio un salto spericolato dell'oggi, se pensiamo alle ultimissime vicende, le polemiche e le reazioni politiche, l'ultima tragedia, tra virgolette, nel Mar Mediterraneo, con questa esplosione delle peggiori pulsioni razziste nel corpo, non solo della pace, nel corpo tutto dell'Italia, ci fanno pensare che forse quel nemico interno, il fascismo, non sia stato sconfitto una volta per tutte. oppure pensiamo al successo di un'organizzazione come Casa Pauna, che si è presente in un'organizzazione politica, in un'organizzazione paradivitale, che ha agganci e sostegni in forze politiche presenti anche in Parlamento. Ma pensiamo appunto alla vicenda della storia d'Italia, la tentazione strisciante che da loro è emersa come un fiume calzico del corpo di Stato. E pensiamo alle pulsioni razziste e fascistoide, in forze politiche rappresentate nelle istituzioni politiche italiane. Lega Nord Badania, innanzitutto. L'Italia rappresenta un caso anopolo dal punto di vista della storia del 43-45. Innanzitutto diciamo che più di ogni altro paese che è stato impegnato, che ha visto una lotta di resistenza interna contro i fascisti nazisti, in Italia la resistenza è stata e continua a essere, più che in qualunque altro paese. Se lo sfruttiamo un'ottica storiografica e comparativa, il paese in cui più si è discusso e si discute. Con contraposizioni, non solo con dialettica, ma con contraposizioni e contrasti anche molto baschi, molto forti. D'altra parte, la lunga resistenza italiana ha fatto seguito un lungo dopoguerra, per così dire. Che si spiega anche tutto questo con l'anomalia della situazione italiana. Perché dico anomalia? Perché non è usuale il fatto che uno stato belligerante improvvisamente cambia il reato. E improvvisamente l'alleato di ieri diventa il nemico di oggi, e il nemico di ieri diventa l'alleato di oggi. Anomalia? Quindi che vede un'azione belligerante su due opposti fronti, guidata da un campo ormai detronizzato, a conflitto in corso. Quando ormai l'esperanza di vittoria, al di là del vincere che continuava a essere scritto sui muri, o gridato alla radio, era ormai un sogno patentico. Il paese che passava da un campo all'altro. dopo un intervoglio in cui divenne un paese occupato militarmente, da quello che diventava l'ex ameato. E si trovava dunque l'Italia in questa terribile situazione, che non dobbiamo dimenticare, di essere occupata e percorsa, percorsa e occupata, da entrambi gli eserciti. Con una divisione geografica, che era diventata forte militare. e nel contempo un terzo esercito scese in campo, a partire dall'ottosso tempo di 1993. Quello che poi appunto fu chiamato l'esercito dei volontari della libertà, quando si chiamò, quando si vuole disfusionalizzare. In realtà si trattò, in larga parte, di forze spontanee, che compreso, come sappiamo, anche non pochi soldati, soccrattisi al reputamento forzoso, da RSG, da RSI, eccetera, e dei nazisti. Troppo a lungo, nella memorialistica, della rappresentazione pubblica, della resistenza, da parte della stessa sinistra, si è presentato l'antifascismo come una lunga linea continua, che partiva dall'opposizione Mussolini, addirittura dal 19, quando era l'antifascismo, al 22 della marcia Solova, continuava con l'antifascismo che via via diventava clandestino, non mai scontillato, dopo il 26, e che si riduceva in esilio, col carcere, o al confine di polizia, e poi riprendeva nel 43-48. In realtà questa continuità non c'è stata. E in particolare il 43-48 c'è che fa emergere un nuovo antifascismo. E questo nuovo antifascismo che potevamo chiamare antifascismo militare, ha avuto certo dei momenti di preludio, la battaglia di Guadalara, è ben noto, no, marzo 37, per la prima volta, italiani contro italiani, fascisti contro antifascisti, in qualche modo il preludio, si disse, della azione resistenziale. Ma di fatto il antifascismo militare esprime anche un salto generazionale, è una nuova generazione che entra sulla scena. Sono i giovani. Basti guardare le lapide, che li troviamo nelle nostre città, che vengono lucidate, di solito parlate proprio il 25 aprile. Guardate l'età, fate caso all'età. E fate caso anche alle professioni, professioni, panettiere, artigiano, tipoporto, maniscalco, calzolaio, studenti, studenti, impiegato, operaio, operaia, studentessa. C'è, in qualche modo, un'altra Italia che emerge improvvisamente, è anche un taglio generazionale, dice, che significa una controposizione politica. Una nuova assunzione di responsabilità contro chi la responsabilità non l'ha voluto assumere, per così dire. Torniamo alle tre guerre. Guerra civile. Guerra civile e torniamo al libro di paure. Come sapete, a lungo, è stata la destra, in particolare la destra nostalgica, un nome per tutti, Giorgio Pisanò, che è stato il primo agiografo, apolo gennaio, che ha cercato di recuperare la vicenda fascista. A partire dalla fine degli anni 40 in avanti, Giorgio Pisanò è stato un dirigente, anche del Movimento Sociale Italiano, come sappiamo, no? Senatore. E' stato anche il primo storiografo post-fascista, nostalgico. Ebbene, era proprio quella destra, quella dei nostalgici, che poi si raccomandava anche in riviste come Cantido, il Borghese, se molti di quelli che andavano in Italia ricorderanno, che ha usato, sprecciativamente, l'impressione di guerra civile. o tra l'ora anche una forma che vorrebbe essere aggravante, guerra fratricida. No. I fratelli sono sempre buoni da ammazzare i fratelli, scriveva Giovanni Papini nel ottobre 1914. Usando l'espressione guerra civile, si intendeva derubricare quello che era accaduto. E in qualche modo si intendeva presentare la guerra civile da parte dei partigiani come un attacco insensato, violento, crudente, contro gli altri che comunque rappresentavano l'Italia istituzionale. Era un modo di preludere alla equa ripartizione dei torti e delle ragioni. In fondo della guerra civile in qualche modo si pensa che le parti sono divise equamente, cosa che non era, che le forze sono distribuite equamente, cosa che non era, e che le ragioni sono distribuite equamente, cosa che non era. Allora questa espressione, questa retorica della guerra civile improvvisamente riemerge, siamo nel anno 91, attenzione, siamo poco dopo la Bolognina che è un vero che è uno spartialo e uno spartialo internazionale di Italia. Ebbene, in 91 uno storico che era stato comandante partigiano, azionista, uomo di sicura fede democratica, pubblica questo grosso volume di 800 pagine intitolato una guerra civile. In qualche modo sdogana a sinistra per così dire questa espressione che era stato il monopole della destra. E allora come forse ricorderete di questa espressione si fece un grande uso politico. Ricordo Gianfranco Fili all'epoca ancora esisteva ancora un movimento sociale italiano poi diventò proprio un'avvianza nazionale fiuggi non ricordo la data esatta ma siamo lì ma era ancora un movimento sociale che disse ma noi l'abbiamo sempre detto che era un'opera civile noi l'abbiamo sempre detto finalmente ve ne accorgete anche voi ve ne accorgete anche voi poi come dire Pamone è un bel dire escusazione appetita ma in realtà il mio titolo era un altro era santo storico su una moralità della resistenza diventato quello era solo il sottotitolo e tuttavia anche il sottotitolo a mio avviso era inquivoco e poi come si fa a distinguere una guerra sociale da una guerra civile è evidente che la guerra sociale è una guerra interna e quindi è una guerra civile la lotta di classe subalterni dominanti è una guerra civile è evidente quindi la discussione è molto discutibile era cominciata cominciò allora la lunga marcia quindi dopo la progno dopo il crollo del muro il crollo del virgoletto cominciò allora la lunga marcia di accelerazione del revisionismo che sarebbe poi giunta alla sua fase estrema anni dopo la fase estrema è che io mi onoro di aver ribattezzato col termine rovesciso torniamo un attimo indietro scusate se vi faccio fare questa ginnastica mentale ma è per tenermi svegli e togliere la storia questa noiosa di acronia bene torniamo indietro diciamo quando noi ci chiediamo ci ha liberato davvero la liberazione scrisse un prete da un mazzolare scrisse un diario che tenne un mese e era cercato dai nazisti si nascose in un mese che c'era un bel diario a cui alla fine si dice una liberazione vorrà dire davvero libertà pensando agli umili pensando agli ultimi era un prete che lo disse bene allora interrogandoci sul significato di liberazione se davvero è stata libertà uno dei grandi punti dolenti ancora oggi del dibattito non solo storiografico ma politico è la questione della cosa di Teresa dei Conti cioè abbiamo spesso sentito che in Italia è mancata una vera resa dei conti qualcosa che è stato molto più forte in altri paesi è mancata ancora di più una introspezione un'autointerrogarsi collettivo della comunità nazionale sul fascismo e sulle responsabilità di singoli collettività di gruppi di classi sociali di istituzioni rispetto al fascismo ma semplicisticamente qui si è individuato la sinistra dalla parte della sinistra estrema e da parte del mainstream che va dal centro-sinistra alla destra estrena si è individuato un capo espiratorio e un palmiro togliato perché togliati? togliati guarda Sicilio ministro di grazia e giustizia che firma l'amnistia come sappiamo nel 1946 e dunque si dice la mancata resa dei conti la rimessa in circolazione dei fascisti eccetera è stata colpa di togliati ma innanzitutto dobbiamo andare a leggerci la legge e poi vedere come è stata applicata beh c'è una differenza interessante adesso non è qui il caso di fare un seminario giuridico ci sono anche dei giuristi che potrebbero fare molto meglio di me e perché l'applicazione della legge crea un oiato rispetto alla norma della legge perché dobbiamo guardare chi sono gli applicatori e chi sono gli applicatori della legge sono la vecchia classe istituzionale dell'Italia fascista cioè qui emerge in realtà un grande tema della storia d'Italia che quello della continuità è un'esercizionale che è un'esercizionale